Ciao collega, noi artisti siamo tutti uguali, pari diritti e pari doveri. E per noi iscritti al Nuovo Emaio c'è un'opportunità in più, le elezioni del 22, 23 e 24 maggio. Prenditi un po' di tempo per votare perché stavolta è davvero importante, non ci vuole molto e si fa tutto online. Nuovo Emaio rappresenta più di un milione di artisti nel mondo, per diritti maturati nel nostro paese. Gli artisti italiani iscritti al Nuovo Emaio ormai sono più di 22.000, praticamente come una grande metropoli. E con le necessità altrettanto grandi che ne conseguono. Gestire bene le risorse, per esempio, controllando che nelle tue tasche finisca tutto ciò che ti spetta. Proporre bandi a fondo perduto per realizzare i tuoi progetti. Destinare fondi per sostenere la tua quotidianità in questi tempi così delicati. Soprattutto se hai figli a carico. Artisti Nuovo Emaio comprende professionisti tra i più importanti del settore audiovisivo. Alcuni di noi ci sono già seduti al tavolo del Consiglio. E i sostegni che hai ricevuto nell'ultimo anno sono partiti anche grazie a noi. Gestire un istituto così grande non è facile, ma se sceglierai chi ha già l'esperienza di aver realizzato fin qui tutto questo, assicurerai il tuo futuro in buone mani. Permetterai di confermare questa gestione, che è stata convincente, ma soprattutto vincente. Se nel giro di due anni sotto questa gestione siamo passati da 7.000 a 22.000 iscritti, è perché abbiamo saputo rispondere bene alle domande che la congiuntura economica ci ha fatto. Ora siamo più forti che mai, siamo la seconda collecting al mondo. Siamo riusciti ad aprire un tavolo di trattativa con i player più grossi e multinazionali come Google, ad esempio. E sai perché lo facciamo? Per te, per noi. Nel corso di quest'ultimo anno abbiamo erogato in contributi ai nostri soci qualcosa come circa 27 milioni di euro. E sai come siamo riusciti a farlo? Ricevendo un voto, come il tuo. Il 22, 23 e 24 maggio ricordati di scegliere Lista 3 Artisti Nuovo e Maie. Stiamo insieme. Io ci sto. Stiamo insieme.